Come fai a cambiare la risoluzione di un raster dentro software open source QGIS? In questo video ti faccio vedere due modi per fare il cambio della fantomatica risoluzione e spendo due parole anche su che cos'è la risoluzione di un raster. Il primo metodo prevede di utilizzare uno strumento dentro QGIS, il secondo una sorta di escamotage perché attraverso l'esportazione di un raster puoi controllare in output la risoluzione, il valore che il dato in uscita avrà come informazione di risoluzione. Se pensi che questo video possa essere utile a qualcuno glielo puoi condividere, ti puoi iscrivere al canale per supportarmi e supportare questo progetto oppure puoi accendere la discussione attraverso i commenti. Se c'è qualcosa che non ti è chiaro me lo puoi scrivere qua sotto a seconda di dove stai guardando il video. In questo modo mi dai un supporto, mi fai capire che questi contenuti in qualche modo sono interessanti, ma dentro QGIS ho portato un raster. In realtà di raster ce ne sono due, perché se guardi qua nell'albero dei layer vedi due raster diversi. Quello che vedi in questo momento sullo schermo è un modello digitale di elevazione. Un raster un po' complicato, un raster che ha qualche informazione in più, considera che un raster è una fotografia che tu scatti col tuo smartphone. Il raster è un'immagine, detta molto semplicisticamente, poi nell'ambito dei GIS si va ben oltre l'immagine quando si parla di raster, ma è fondamentalmente un qualcosa che ha due dimensioni ed è formato da tante unità fondamentali, le più piccole mattonelline che una vicino all'altra compongono il disegno, l'immagine o la rappresentazione che stai guardando, che sono i pixel, che sono a loro volta quadrati. E allora che cos'è la risoluzione di un raster? La risoluzione di un raster è la dimensione di questa intima unità fondamentale del raster che è il pixel, ossia quanto misura quel pixel. Nel caso che ti sto facendo vedere in questo video, io ho caricato un modello digitale di elevazione, che è nello specifico ancora di più un modello digitale del terreno, che è la rappresentazione dell'informazione di elevazione di un'area abbastanza vasta. Se ci fai caso, si può notare che questa è una zona montana, c'è una strada abbastanza evidente e ci sono dei versanti con delle creste. Perché tutte queste cose sono evidenti? Perché ho impostato la visualizzazione di questo raster in un modo particolare, di cui non ti parlo in questo video, e poi perché siccome tutti questi elementi, gli intimi elementi che compongono questo raster, sono queste cose qua, questi quadratini che sono dei pixel, e siccome questa visualizzazione che ti sto facendo vedere tiene conto perché è dentro l'informazione di questo dato dell'elevazione di ciascuna cella, vedo che le strade sono ben visibili perché tendenzialmente una strada, se vado da monte verso valle in un andamento trasversale all'astra della strada, mantiene una pendenza che è sicuramente ridotta rispetto a quella che è la pendenza del versante all'interno del quale la strada è stata creata. E quindi vedo molto bene l'andamento del terreno. La risoluzione di questo raster è la misura di questi pixel virtualmente presa a terra. Come faccio a sapere quant'è questa misura? Beh, posso utilizzare lo strumento di misura, misura una linea di QGIS, e prendere l'inizio e la fine di un lato di questo raster e vedere, devo fermare la misura, e vedere che questa roba qua è lunga 0,51 e 6 metri. In realtà l'ho presa un po' più abbondante. Questo raster ha una risoluzione di 50 centimetri. Si dice che la risoluzione è 50 centimetri per pixel. Ok, poi qui a sinistra vedi anche in questo box che ci sono anche delle informazioni di coordinate x e y che sono relative alle coordinate est e nord degli estremi del segmento che ho disegnato quando ho chiesto a QGIS di misurare questa distanza. Nell'ambito dei QGIS la risoluzione di un raster è la misura del pixel che compone questo raster perché tutti i pixel hanno la stessa dimensione all'interno di un raster. Non troverai un raster che ha dei pixel che hanno un lato di 50 centimetri e altri pixel che nello stesso dato hanno un lato di 2 metri, 5 metri, 10 metri. Hanno tutti la stessa dimensione e quella è la risoluzione. La stessa cosa vale per un'immagine forse un po' più classica anche se questo termine non mi piace molto che è questa, un'ortofoto classica nella misura in cui è più leggibile rispetto al modello digitale del terreno ma anche qua la risoluzione è la misura di questo pixel presa all'interno di QGIS virtualmente misurata a terra. In questo caso sono 20 centimetri. è come se io prendessi questa immagine come se fosse un enorme lenzuolo lo stendessi al suolo e poi con il mio metro col mio flessometro andassi in uno di questi punti dove riesco a vedere la intima parte la più piccola parte che compone questo lenzuolo lo posso misurare a terra. Questo è il valore del raster. Se ti occupi per qualche motivo ad esempio di fotogrammetria il concetto di risoluzione di un raster fa abbastanza scopa col concetto di GSD la risoluzione al suolo di un'immagine a seconda di quanto è scattato distante un'immagine quando vai a misurare la misura scusa la ripetizione del pixel che costituisce l'immagine perché l'immagine è un raster beh quella misura presa al suolo rappresenta il ground sampling distance ma non voglio entrare troppo nel dettaglio della fotogrammetria potresti avere la necessità però di cambiare la risoluzione di un raster i motivi per cui potresti avere necessità di cambiare la risoluzione di un raster sono diversi a volte hai dei dati che sono molto risoluti cioè ci sono un sacco di informazioni e magari per i tuoi scopi è troppo sono troppe informazioni magari il tuo computer fa un po' fatica magari devi portare questo dato all'interno di un altro programma e tutta quella informazione non gli serve anzi rischierebbe di dargli un sovracampionamento informativo con il rischio di magari dare anche dei risultati fallaci oppure inchiodare proprio tutto il sistema penso ad esempio e lo dico un po' per quello che ho fatto un po' di anni fa a tutti i software che utilizzano modelli digitali di elevazione raster per la modellazione idraulica i processi di acquisizione dei dati che in questo momento si utilizzano per fare rilievi come la fotogrammetria l'area fotogrammetria con immagini da drone laser scanning portano a avere dei dati molto densi e quindi potenzialmente dei modelli digitali di elevazione molto risoluti ma se metti un modello digitale di elevazione molto risoluto dentro un software di modellazione idraulica probabilmente a meno che le cose non siano cambiate e forse sì perché è un po' che non ne faccia girare qualcuno le cose si incagliano e non c'è neanche bisogno di tutta quella risoluzione insomma i motivi per cui vorresti cambiare la risoluzione di un raster sono diversi ora finalmente dopo 8 minuti ti faccio vedere come si fa a cambiare questa benedetta risoluzione primo metodo quello su cui hai un po' più di controllo in relazione al processo che utilizza QGIS per fare questo questo cambio di risoluzione ammettiamo che io voglia ridurre la risoluzione sottocampionare ridurre la risoluzione controintuitivamente non vuol dire ridurre la misura di questi pixel al suolo vuol dire aumentarla perché riduco l'informazione quindi faccio un sottocampionamento degrado l'informazione di questo dato allora vado qui in alto menu raster raster projection warp reproject reproject se utilizzi QGIS in italiano dovrebbe essere raster proiezione riproietta distorci una roba del genere io lo utilizzo in inglese forse l'ho già detto in qualche video perché utilizzo QGIS in inglese come la maggior parte di software perché se devo cercare una risoluzione a un problema specialmente in un progetto in un software open source come QGIS è molto più facile che questa soluzione la trovi in lingua inglese rispetto alla lingua italiana allora qui è molto semplice quello che devi fare in realtà non proprio molto semplice qua ci spendo due parole perché questo metodo è quello che si porta dietro qualche opzione in più in relazione al processo che viene utilizzato per fare il ricampionamento il sottocampionamento in questo caso ricampionare vuol dire generalmente cambiare la risoluzione sottocampionare vuol dire degradare la risoluzione se no ci sarebbe l'oversampling cioè il sovracampionamento quindi aumenti la risoluzione faccio una considerazione dopo sul sovracampionamento non è una tecnica che uso e che mi piace molto ma te lo dico dopo allora se vuoi cambiare la risoluzione tappandoti il naso chiudendoti gli occhi basterebbe che qua in questa cella che è la la sesta cella dall'altro che recita in inglese output file resolution in target geo-referenced unit metti il valore della risoluzione output quindi ricordiamoci che io ho un dato che ha una risoluzione di 50 cm per pixel metto 5 5 che cosa vuol dire 5 unità di riferimento e in questo caso sono i metri per pixel quindi ho un sottocampionamento di un ordine di grandezza da 50 cm 0,5 metri a 5 metri puoi dare ok run e lui ti fa il calcolo calcolo è stato abbastanza veloce perché perché ho fatto un sottocampionamento verso una risoluzione molto degradata un ordine di grandezza è meno rispetto alla risoluzione nativa e quindi ha fatto abbastanza presto chiudo lui che cosa ha fatto ha aggiunto un layer che è il raster che lui chiama reprojected riproiettato in realtà da un punto di vista dei sistemi di riferimento e delle proiezioni non è cambiato niente è cambiata la risoluzione e allora qui magari cambio la visualizzazione e ti faccio vedere la visualizzazione nel solito modo in cui vedevi la visualizzazione precedente hill shading ti rendi conto forse se non te ne rendi conto te ne faccio rendere conto io facendo questo ho questa roba qui quindi accendo e spengo il raster che è stato creato come le cose siano cambiate dall'alto io leggo ancora molto bene la geometria no l'orografia la morfologia di questo versante inclusa la strada però se incomincio a zoomarci dentro quando vado vicino alla strada e beh qua la vedo molto meglio questo è il raster di partenza e qui incomincio a fare molta fatica quant'è la risoluzione di questo raster beh mi aspetto che sia quei 5 metri che gli ho detto perché misuro questa cella e vedo che il valore è 5 e rotti perché sono stato anche in questo caso abbastanza abbondante io però qua non mi sono posto molto il problema di come abbia fatto il sottocampionamento QGIS in relazione al raster che gli ho dato in pasto adesso spendiamo un attimo di tempo per capire come fa tolgo questo layer che è quello che ti ho fatto vedere ritorno sul layer del DTM l'ortofoto è da un'altra parte per cui non mi dà un grosso problema ritorno qua quindi ritorniamo in raster projection word preproject e adesso spendiamo un attimo di tempo a capire come fa il software a fare questo ricampionamento e qui nel quarto box dall'alto c'è una voce che ti dice resampling method to use cioè qual è il metodo di ricampionamento lui non sa se è sotto sopra che il software utilizza ce ne sono diversi faccio una carrellata dei principali di default tu hai attivo il metodo nearest neighbor che cosa succede? allora ti chiedo di seguirmi un attimo con l'immaginazione immaginandoti quello che succede quando fai un ricampionamento tu hai una serie di pixel anzi facciamo così questa roba qua la sposto nell'altro schermo e faccio uno zoom tu hai una serie di pixel quindi mettiamo che prendi tutta quest'area che è caratterizzata da una serie di pixel vuoi creare un nuovo raster che ha una risoluzione di in questo caso possiamo fare un metro per pixel quindi lui ti creerà delle nuove celle che avranno lato un metro queste nuove celle abbracceranno una serie di pixel che sono ora presenti nel raster originario qual è il valore di elevazione in questo caso perché l'informazione che gli stai dando al raster è quella di elevazione perché questo è un modello digitale del terreno dopo ti faccio vedere l'ortofoto e l'informazione che prende il nuovo dato ricampionato è quella del colore che informazione prende? beh prende l'informazione della cella originale che è più vicina al centro il cui centro è più vicino al centro della nuova cella ricreata se faccio un sovracampionamento scusa avrà una cella grande che prenderà tot celle piccole prende quella più vicina e gli assegna quel valore di elevazione molto veloce fa abbastanza presto questo metodo perché è un po' tranchant non è molto non ci va molto per il sottile un metodo che io tendenzialmente preferisco è il bilinear e il bilinear fa fondamentalmente una cosa simile tutti questi metodi fanno una cosa simile soltanto che invece di prendere come valore di destinazione per l'elevazione in questo caso del raster quello della cella più vicina fa una media ponderata delle quattro celle che sono più vicine al centro della nuova cella che viene creata e il peso nel calcolo di questa media ponderata è relazionato alla distanza dei centri delle celle quindi ci sarà una cella che magari è più vicina rispetto a delle altre e quindi avrà un peso maggiore nella determinazione del valore della media ponderata dell'elevazione perché è più vicina la cubica prende un numero ancora maggiore di celle prende ad esempio non ad esempio togli ad esempio prende 16 celle e anche in questo caso attribuisce un peso in relazione alla distanza che ciascuna di queste celle del dato originale ha rispetto alla nuova cella che viene fuori dal processo di ricampionamento un resampling secondo il metodo cubico tende a creare in output uno smussamento se inizierai a lavorare un po' con il resampling e quindi con le modifiche delle risoluzioni dei raster ti renderai conto che ci sono dei metodi che sono un po' più gentili nell'output in termini di dato smussato non è detto che questo sia il dato che ti serve è quello che cerchi in output per cui fai delle valutazioni in questo senso in linea di massima quando utilizzi un metodo di ricampionamento il valore dell'output della risoluzione quindi maggiore in termini numerici la risoluzione in output è più veloce al calcolo ci sono altri metodi ora salto gli ultimi e quelli centrali cubico con la BSP line questi sono un po' più semplici average mode maximum minimum mediana allora in relazione alle celle che sono comprese all'interno dell'impronta della nuova cella che viene creata a valle del processo di ricampionamento quindi mettiamo che una nuova cella abbracci otto celle del dato originario vedi quelle da otto celle il metodo average calcola la media del valore di elevazione ti ricordo che l'elevazione perché sto trattando un modello digitale del terreno questo valore medio lo dà la cella nuova può calcolare la moda può prendere il valore massimo può prendere il valore minimo o calcolare la mediana quindi queste sono delle valutazioni statistiche in relazione al confronto dato sorgente e dato finale quindi mettiamo ad esempio cubica e ha un output di manteniamo 5 metri oppure possiamo fare 2 metri sperando che non sia troppo lento processo gli dico vai fa abbastanza presto lui mi ha creato il nuovo raster che lo chiama reprojected gli cambio di nuovo un attimo la vista per tornare ad essere in analogia con quello che ti ho fatto vedere precedentemente ed ecco che io vedo il dato riproiettato rispetto a qui ci sono delle linee qui qua è successo qualcosa a livello di riproiezione di cambio di risoluzione e riproiezione perché il dato è un il comando è il comando di riproiezione però in linea di massima non ho fatto assolutamente niente ti chiedo anche scusa per aver assistito a questa roba totalmente cretina perché non ho messo il valore della risoluzione credo di non aver messo la risoluzione o forse sì vabbè facciamo una cosa lo rifacciamo e non cancello il video e quindi andiamo avanti così raster projection wordpress project tutto questo fa parte di vari processi ho cambiato forse dato che dovevo trattare prendiamo beh prendiamo il bilinear e diamogli una risoluzione in output di 5 metri ok run lui mi crea un nuovo dato ora le cose mi tornano riesco a vederlo meglio probabilmente ho fatto del casino prima nella visualizzazione il shade ok adesso le cose mi tornano questo è il dato ricampionato con un nuovo raster che ha una risoluzione di 2 metri e come vedi questo processo ti permette di lavorare un po' meglio su come QGIS gestisce questo passaggio vediamo un attimo che cosa succede nella modifica della risoluzione di un'immagine classica tradizionale un'immagine RGB un ortofoto dove quello che viene gestito è l'informazione del colore questo ortofoto non ha informazione di elevazione non è un modello digitale di elevazione non è un raster che si chiama anche 2,5D questo è un raster 2D puro se gli chiedo di sottocampionare questa informazione plug-in no raster projection warp project lascio nearest neighbor oppure mettiamo bilinear abbiamo detto che qua siamo credo sui 20 cm quindi mettiamo ma esageriamo mettiamo 5 metri facciamo run lui ha creato un nuovo raster e come vedi ho tutto più pixelato qua a fotocasino ho tutto più pixelato perché la risoluzione in output è più scarsa questo è il dato originario questo è il dato ricampionato quello che è stato mediato ho utilizzato l'algoritmo bilinear è l'informazione di colore ogni cella ha un'informazione di colore che questa informazione si traduce numericamente in valori di rosso verde blu rgb vengono mescolate secondo l'algoritmo che scegli nel processo di ricampionamento e assegnate al valore della nuova cella in questo caso da lontano capisco di che cosa si tratta quando mi avvicino vedo poche informazioni perché ho fatto proprio un down sampling quindi ho sottocampionato l'informazione in output perché non mi piace sovracampionare perché sovracampionare vuol dire creare un raster che avrà in output una risoluzione più spinta rispetto al dato iniziale ma vuole vuole anche dire che il software deve cercare in qualche modo di ricreare un qualcosa da un dato che fondamentalmente non ha aumentare la risoluzione di questa immagine vorrebbe dire provare a definire intuitivamente provare a dettagliare maggiormente le informazioni a terra ma come può fare il software a dettagliare maggiormente le informazioni a terra se queste informazioni non ce l'ha ha più senso secondo me degradare l'informazione perché magari non ci serve se abbiamo necessità di un dato più dettagliato io credo che si debba tornare alla fonte all'origine del dato quindi interrogarsi su come è stato acquisito il dato e eventualmente riprocessarlo oppure tornare in campo per fare delle acquisizioni il sovracampionamento personalmente non mi piace molto il secondo metodo veloce senza controllo però tutto sommato può essere molto funzionale per gestire la risoluzione di un dato raster fammi togliere un po' di cose quindi tolgo questi dati e tolgo ma lasciamo l'orto mosaico torno un attimo sul modello digitale di elevazione il secondo metodo è passare attraverso il salvataggio allora se vai qui quindi nell'albero dei layer selezioni il raster che vuoi sottocampionare in questo caso comunque ricampionare tasto destro esporta save as lui ti apre una maschera nella maschera puoi scegliere una serie di informazioni ora non entro nel dettaglio dei vari sistemi di riferimento quello che puoi fare è andare qua e vedere che c'è un box specifico per la risoluzione e lui ti dice che la risoluzione attuale o meglio la risoluzione in output è la risoluzione del layer corrente e te la scrive nei box 50 cm sia lungo la X che lungo la Y ma tu la vuoi magari modificare in questo caso puoi anche modificare diversamente in maniera svincolata la risoluzione lungo la X e la risoluzione lungo la Y quello che ottieni è una distorsione quindi se lavori con questi dati mantieni uguali i valori di X e di Y se ci fai caso rispetto al dato originario dove la risoluzione è 50 cm per pixel il numero delle colonne e il numero delle righe che leggi nei box qui sotto cambia quando cambi la risoluzione ora metto due metri diminuisce perché? perché sto degradando l'informazione ho dei pixel che misurati a terra hanno un valore maggiore quindi ne avrò di meno all'interno dell'intero raster di meno quindi distribuiti lungo la X e lungo la Y quindi lungo le colonne e lungo le righe una volta che hai fatto questo non lo faccio perché è abbastanza intuitivo devi definire dove salvare questo file e quindi anzi dai facciamolo visto che siamo qua fino in fondo ora sto ovviamente non mi sono preparato il dove farlo risoluzione del raster e questo lo chiamo raster out in geotiff gli do salva fammi soltanto cambiare ancora un po' la risoluzione e mettermi un 5 metri per 5 metri spero che vada tutto bene e che non si incagli ok lui l'ha automaticamente aggiunto all'albero dei layer come dato all'interno di QGIS torno in yield shading vado a vedere la risoluzione spengo tutto quanto anche se questo è in cima tutto ed ecco fatto che se accendo e spengo un nuovo lar raster mi rendo conto di come è stato sottocampionato come è cambiata la risoluzione questo attraverso il processo di esportazione con cambio di risoluzione non sono sicuro al 100% dell'algoritmo che viene utilizzato in questo secondo caso credo che sia l'algoritmo nearest neighbor quindi l'algoritmo più semplice se hai un feedback in questo senso fammelo sapere però questo è un secondo metodo che ti permette di cambiare la risoluzione di un dato raster io preferisco il primo hai più controllo puoi gestire vari aspetti puoi selezionare l'algoritmo che preferisci però c'è anche questo che è più veloce e magari anche come output ti permette di avere a partire da un raster diverse risoluzioni a seconda delle destinazioni o degli usi che ne farai di quel particolare prodotto io spero di esserti stato utile con questo video se ti va puoi condividerlo con qualcuno che deve cambiare la risoluzione di un raster dentro QGIS se c'è qualcosa mi puoi scrivere su telegram at paolo corradeghini oppure qui a sinistra ci sono i miei contatti social network puoi scrivere nei commenti se c'è qualcosa che non ti è chiaro darmi spunti per altri contenuti che riguardano QGIS o altre materie che gravitano intorno al mondo nella geometrica dei sistemi informativi territoriali se ti va puoi supportare il progetto di 3Dmetrica tramite crowdfunding con una campagna su Patreon per diventare finanziatrice o finanziatore del progetto di 3Dmetrica e permettermi di continuare a fare questi contenuti e mantenerli liberi per tutti quanti io sono Paolo corradeghini ti ringrazio per aver visto questo video ti do l'appuntamento al prossimo ti saluto fortissimo ciao